Per poter utilizzare il sistema di telefonia Viva Voce, dovete associare il vostro cellulare Bluetooth, al veicolo, al suo primo utilizzo. Il sistema di telefonia Viva Voce, può memorizzare al massimo 5 telefoni, ma può essere connesso solo un telefono alla volta. Attivate la connessione Bluetooth del vostro cellulare. Accendete l'autoradio. Visualizzate il menu delle impostazioni premendo Impostazioni, poi selezionate il menu Collegamento Bluetooth. Scegliete una posizione libera, quindi confermate. Viene visualizzato il codice di associazione. Questa dimostrazione, viene effettuata da un telefono, attivando la ricerca automatica delle periferiche. A partire dal telefono, selezionate My Radio nell'elenco. Sulla tastiera del telefono componete il codice di associazione. Visualizzato sul display della radio, quindi convalidate. Alcuni telefoni, consentono la connessione automatica, senza richiedere alcun codice. Sul display della radio, viene visualizzato un messaggio indicante il nome del vostro telefono nuovamente associato. Durante l'associazione di un telefono, la vostra rubrica si scarica automaticamente nel sistema. A questo punto, potete effettuare una chiamata. A questo scopo, premete il tasto TEL. Compare il menu del telefono. Per accedere all'elenco dei contatti, selezionate Rubrica. Selezionate un contatto, poi convalidate per inviare la chiamata. TEL. 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 TEL.